Lasciate 15.000 like, grazie a mangiare tutto il menù di cibo piccante del ristorante Qua sorella, questo no perché io non mangio piccante Che cosa ci fa un pepios qui nel ristorante giapponese? Cioè non lasciate mai i like richiesti A questo video avete lasciato i like richiesti Certo, perché tu mi fai soffrire tanto per fare queste challenge La mia vendetta Non sono molto convinto di questa cosa Sei consapevole del fatto che ordinerò io? Ah io non guardo neanche? E poi ci saranno 5 domande Se risponde correttamente le aiuterò Se invece sbaglia mangerà lui Sì ma io dico voi volete mettere il McDonald's rispetto al sushi Cioè sai quant'è di più? Se sai quant'è portata in più ci sono Oh calma, guarda qua Ma sto facendo la buona Ma hai visto quanti sono? Io sto prendendo una cosa per ogni antipasto Scusa come? Fammi vedere Qui c'è scritto Uramaki, te ne prendo solo uno di questi 5 Special Roll, te ne prenderò solo uno Ma sei normale? Quanti sono scusami tutti? 30 pagine Ma sei normale? Ma non sono 30 portate Come no? Sì che sono 30 portate Oddio forse sì Sei pronto? Allora ora ho fame quindi Per questo io direi che questo piatto che siamo una via di mezzo 20 euro 20 euro sì Per esempio questo qua che è più piccolo 5 euro 20 euro è un regalo 6 euro? Sì E se non li finisci tutti non vinci Hai perso proprio tutta la challenge La cosa bellissima sapete qual è? Che per fare questo video io pago la mia quota Ma pago anche la sua Perché non si può sedere e dire no non mangio Quindi io pagherò per due Ma lei avrà il piatto pulito Tranne se ti devo aiutare Se tu dici correttamente una domanda Se rispondi correttamente Ma non mi servirà mai il tuo aiuto Ci siamo? 20 euro più facile della mia vita Con questa quota già ho ripagato la spesa del sushi Secondo piatto 5 euro è tartare di salmone Con questo vincolo facile Corretti come mangio di gusto Molto buono Cioè l'ha finito in un minuto nemmeno? Cioè in 30 secondi? Vabbè io non ho parole 5 Piatto numero 3 e piatto numero 4 Quindi questi due in totale valgono 10 euro Vabbè dai No No Cosa sta facendo? Che sta faccia? Che cosa sta combinando ragazzi? 5 euro andate Non è che ti sei pentito di avermi sfidato qui? Ho un po' fame sinceramente Quando e se sarà il momento ti chiamerò alla sfida Pentiti di aver sfidato il mangione pepios Sì 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 Raga Ma non ingoia nemmeno scogliatole via Che cavolo Quinto piatto Questo vale un euro Sono piccoli Non lo mangio allora un euro Eh hai perso tutti i soldi Voglio un euro e poco Almeno due Sono due Sono ballenti Mangia dopo Ok li mangia dopo Sono arrivati altri piatti Il quinto piatto è ancora all'inizio speso perché è bollente Quindi sesto, settimo, ottavo, nono Tutto questo piatto 20 euro Un euro Come? Ma raga è minuscolo Un euro Facciamo 10 euro 10 euro 5 euro 5 euro Sono sempre 20 Sì? No sono 30 Sono 30 euro Questo non lo mangerò mai quindi uso il bonus per questo L'ho preso apposta per me In che anno ho aperto il mio profilo instagram Ma non ho tutto il mio che cosa mi posso ricordare quando è appena quello instagram Beh dovresti saperlo 2017 2019 2021 2019 Eh beh Pro player Prego te lo puoi mangiare Finalmente Questi sono 10 euro per me Per marketing Lei non doveva mangiarlo perché cioè sono 10 euro Che vanno a me No andano a me perché me ne sono mangiato io Sì Vabbè così così me lo mangio io No 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 Che cosa fai? Madonna Ehi veramente sei una vergogna Andiamocelo Finito Ha già finito Ciao 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 Abbiamo fatto un attimo pausa perché è venuta una ragazza a chiederci una foto 5 euro 10 euro Sei pieno? Sei pieno? Pieno pieno Ma questo è un problema Io sono di lusso Ti ho mangiato praticamente 9 piatti Per ora tranquillo Sì ma ti rendi conto questo può essere chiamato piatto? Quando arriveranno le cose da 8 a pezzi rideremo E hop Mangiati questo Che ti piace tanto Questo mi ricorda Dragon Ball Cioè Goku mangiava questo Non mi preoccupare C'è tempo ce la faccio Ma io devo fare altre ordinazioni Certo appena mi inizio questo No io inizio a ordinare già Così non hai tempo di Così c'è Calmare il tuo stomacuccio Deve essere proprio pam 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 Arrivate tutte le altre portate E qui stiamo un po' appesantendo Tutto Io ho fame Hai fame? Sì Questo l'hai ripreso? Sì Ma non è giusto Parto da questi Com'è? Buonissimo Ok passa a questi Ma mi riempio Eh grazie Quello è il mio scopo Questi quanto? Quelli 5 euro Sì dai ok 10 euro 10 euro già si vola E uno è andato Mangia l'altro E vediamo se è proprio Se si porta a casa 10 euro Quella di la modalità rapida o lenta? Scogliattolo Scogliattolo Io ti dico che questo piatto Vale ben 50 euro Guarda me Sì Ah guardate qui che è arrivato raga Con nutella Posso mangiare nutella con la nutella? Sì Considerando che i gamberoni mi entrano sempre In qualsiasi posizione Posso iniziare A togliere questi qui Questi valgono 20 Quindi con questi siamo a un'ottantina di euro in totale Se li mangi tutti Posso dirti che non sei molto brava a dare i prezzi? Perché? Perché io ho alcuni panini Che ti vado a valere molto Tu sei molto Ma vuoi mettere un panino del McDonald's Come una cosa del genere? Mentre guarda quante robe mi sto mangiando io Tutto mi sto mangiando quattro panini Che quattro panini? Ma stai scherzando? Il frullato E i pancake E tutto quanto Olè Qui vedo un uomo distrutto Ancora non sono distrutto Hai ancora tutto questo ben di Dio da mangiare È quello che mi spaventa Questo l'hai sbagliato ad ordinare E te lo mangi tu? Non l'ho sbagliato ad ordinare Poi riprendimi nel senso di cui sbaglio Ma vogliamo Le regole sono regole Ok lo mangerò io Non dico nulla Questo è molto male 10 euro Quasi alain 6 round E l'ho già arrivato a quasi 250 euro Io sto ancora forse Perché non puoi paragonare Cioè quanto ti devo dare 50 euro? Ti dico che lo sto mangiando Non l'ha sempre Eh l'hai voluto tu fare all'olio che è nitto caro Non è colpa mia È vero e voglioso Non è colpa mia Ditemi nel commento se c'ho ragione o no Perché secondo me c'ho ragione No ragione io Vedo il pepio assolto Allora un po' di difficoltà ce l'ho ammetto Siamo solo al primo piatto di roll Allora questi conti che valgono? 50 euro Perché ovviamente e giustamente sono tanti Madonna io stavo per dire questi che li mangi tu ma 50 euro Ok va bene certo No 50 euro ma li devo mangiare io Intanto La fine dei 10 euro sì Allora ragazzi mi mangio questi qua Intanto Poi comunque dovrò cercare di rispondere a una domanda Per far mangiare Graziana Perché io non ce la faccio più E io sono morato di fame invece Guarda io almeno ti ho pagato adeguatamente Tu mi stai sfruttando Ma che cosa dici? Come un sottopagato Mangia qui Uno due Questo è qualcuno che è pieno Io non posso dire alcune cose Non sono libero di dire ciò che voglio Perché YouTube non è d'accordo su questo Però immaginate che questo vorrei dire Opla Però è quasi finito Deve entrare in gioco la potenza scogliata Olè 50 euro guadagnati Ora sei sui 100 euro circa Vabbè ma guarda ci sono ancora tutti questi piatti Ma ragazzi Questa già è una scam E lo sappiate che la farò soffrire la prossima volta Perché non c'è normale Allora già si sente poco Se tu mi parli anche col boccone in bocca Si sentirà Non mi sta pagando Non puoi dire una cosa che c'è Chi si è accorto di aver fatto una scammata fino ad ora? Allora però sono onesta Ah si si è onesta pure si è onesta Perché sono andata a vedere il video Per cui voglio rimediare a questo mio errore Dicendo che tutti questi piatti Costano 50 euro Si Però questo Perché è tanto 100 Oh beh beh 100 euro quel piatto ci sta Ma non era questa la cosa Era il fatto delle domande Il fatto delle domande E proprio per questo ho alzato il prezzo degli spaghetti Perché Se tu Utilizzi i giorni E dai la risposta corretta Vinci anche i soldi E grazie al... Sei loca Cosa serve rispondere alle domande ragazzi? Tanto io ormai ho sofferto Sono pieno Non posso fare più niente Sei tranquillo Te li doi so Sei tranquillo Eh ma mi hai dimotivato proprio nel cervello Capito? Quindi ora io soffrisco del bonus Mangiati sto piatto schifoso Io devo mangiare le spaghetti Certo Vammi la domanda Devo rispondere per forza a questa domanda Per forza La devo sapere Qual è stato Il primo prank Che io Ti ho fatto Su questo canale? Chiavi nel water Chiavi nel water Te lo faccio io Quindi Non è Ok poi Colla Con domenico Oppure Ti butto Il telefono Dal balcone Allora io Non mi voglio sbagliare Ma il prank della colla Me l'hai fatto su Trollini Quindi dovrebbe essere Il telefono dal balcone Ed è la risposta corretta Mangi Ti ho stimpiato Mangi Che per lei ovviamente Non sarà una sofferenza Ma per me sì Prego Ah già È tutto bello Perfetto Limpido Boom Quindi ho preso 100 euro ora Eh sì Sicute Per me Arriva il momento Di loro Le gamberons Sono piena Ma ti tiro Uno scappellotto Sono piena Con tutto ciò Che devo mangiare Ancora io Guardate qua Dovete sapere una cosa Uno dei miei piatti preferiti Nella vita Sono proprio loro I gamberoni Ecco perché ne avevo presi 12 Perché lui anche 40 Se li mangia tranquillamente Mi garantisco Che una volta Ne ho mangiati 40 Uno Con la velocità della luce Proprio raga Due Tre Quattro Cinque L'ultimo Pieno Molto pieno E qui ti avanzano ancora Tre cose Ci cerchiamo la domanda Del Pepius Oh no basta Ti prego Sono piena 50 euro al Pepius Domanda Mi devi dire Con esattezza Le mie due date Di laurea Sì ma che ti dico Ma che tu te le ricordi Io le ricordo Agosto 2021 Ma come agosto Agosto è tutto chiuso Hai sbagliato Quindi ti tocca Mangiare un piatto Che piatto gradisce Quasi delizioso Siroll Quasi delizioso Siroll La Nutella Queste altre cose Che non ho capito Che cosa sono E chi le ha ordinate Prima di roll Oggi andrà a finire male Per il Pepius Ho i brividi di freddo E hop E hop Buoni Guardate Ragazzi Io non ho mai mangiato Una cosa Più pisante Di questo Dai che è l'ultimo L'ultimo del piatto Perché ci sono ancora questi Mi gioco un'altra domanda Ma che decidi tu Quando Sì decidi tu Vabbè Sono buona Perché lo vedo Che sta soffrendo Come si chiamava Il tuo terzo canale Vai col Pepius Bravo Che ho creato io Il tuo primo piano Per vomitare Io Ma lei sta per vomitare Io mi sono mangiato Un piatto Un piatto di spaghetti Ma stat Che Non ti piace Mi sa C'è qualche salsetta Si vede bene il frontone Così Allora io ho riposato Ho riposato Per l'ultimo piatto Di questa manche Con la Nutella Tra l'altro Una domanda Ma secondo voi I brividi di farendo che ho Perché sto per avere un Ictus Questo non ci tengo Ad assaggiarlo Il sushi con la Nutella Non lo prenderò mai più In tutta la mia vita Ma c'è che ne devi mangiare Altri sette Ma due alla volta E hop Che non riesco Manco a riprenderti Sto malendo Ma immagina l'altro Scogliato lì Quanto Guardate quanti Fatemi sapere nei comment Se qualcuno è mai morto Ti voglio aiutare Uno lo voglio assaggiare E lo mangio io Si Ma poi c'è il terzo round Col terzo round Arrivi a un bottino Di mille euro Che fai? Accetti Accetti fin dove sei arrivato Accetti fin dove sei arrivato Sui 300 euro Rinuncia all'ultimo round Del valore complessivo Totale finale Di mille euro Potevo comprami un Charizard Gold Star Va bene Io lo assaggio Mangiamo C'è in cibo Ragazzi vi prego Ho bisogno di far soffrire Questa donna Lasciate 15.000 like Grazie a mangiare Tutto il menù Di cibo piccante Tua sorella Questo no Perché io non mangio piccante Tu il sushi Te lo gnocchi caro Ragazzi 15.000 like Deve soffrire lei questa volta Grazie a tutti